Don Paolo, un arrivo importante, quello di Don Vito Piccinonna, che porterà una ventata d'aria fresca anche dovuta un po' all'età, a questa diocesi. Voi che cosa vi aspettate? L'ho detto nella Messa di Santa Barbara, che è la protettrice della diocesi, che in questo momento la nostra realtà ha un sindaco giovanissimo, appena eletto, perché ha solo 35 anni, e il vescovo giovane. Allora uno si aspetta un risveglio molto forte, perché poi la nostra provincia è un po' anziana come persone che la abitano. Quindi spero che sia una ventata, tutti e due insieme ci aiutino a uscire un po' da un torpore. La figura di Don Vito è quella di San Francesco, in qualche modo si sposano. La sua attenzione agli ultimi, ai poveri, mi pare che sia la caratteristica della sua vita, poi la vedremo quando lui sarà oramai in pianta stabile e ci mostrerà tutto quanto. Voi di che cosa sentite il bisogno, diciamo questa diocesi e questa città, di cosa ha bisogno e cosa vi aspettate? Di un pastore, cioè di una persona che si prenda a cuore la vita della comunità cristiana, l'aiuti a crescere nella fede, a risvegliarla, ad avere entusiasmo e gioia nel dono che abbiamo ricevuto dell'essere cristiani. Questo sinceramente è quello che ci aspettiamo tutti quanti.